bella a tutti ragazzi io sono youtube su playstation 4 e siamo qui con franci giuvenova e niente abbiamo creato una discoteca e realmente quella che frequento io a questa lama del golfo rooftop la discoteca voi siete di quelle zona rega vi consiglio di frequentarla perché non l'avessi fatto c'è un board alla volontà e non la regalo ricreata ingrativa ho fatto tanto di prima una zona possiamo dire contenente un armadietto poi ho fatto un pochino improvvisato ho messo le ceste ho permesso qua un blocco per il privato ci sta il privato con tanto di drink e bevande le campioni che è tutto chiuso con delle barriere attivate con la funzione nero attiva solo in gioco poi ci sono i bagni dove mentre però non sono proprio così i bagni però comunque più o meno siamo arrivati a questo poi sono le mini ceste e contengono oggetti trapegoette illegali poi niente c'è tutta la nebbia per dare un effetto di discoteca dei vari pari una zona caffè con tanto proprio di patatine che questa qua non ve le consigliate di prendere perché comunque fanno malissima la salute tanto di persone dj personale il buttafuori che si arriva con lo col cappello poi ci sta un grande dispendio di di bevande e poi in più c'è la zona privè che è questa qua con scritto pizza pit sale giochi vai di fare a fare a volontà tanto di ombrello e due divani per sedarsi allora ragazzi se vi interessasse di 3 sesta mappa comunque l'esplorazione è fatta più meno così questa la struttura con tanto di barriera tutto per il resto va è bellissimo ragazzi ve la consiglio se voleste giocare con me io ancora il codice non l'ho presente però se voi voleste giocare me lo dite mi manda l'amicizia ci facciamo faccio un piccolo concerto mio così tanto per cazzeggiare divertirci portare più gente possibile ora qua si sono a questa piattaforma di respawn volete portare tutta la gente che caspita voi